Per il resto ovviamente sono felice, sono felicissimo, non vi dico, non sarei sincero se vi dicessi che non me lo aspettavo perché non è così, certo magari un mese fa no, ma negli ultimi giorni tutti noi abbiamo la presunzione di conoscere la gente, di capire gli umori della città, però andando in giro avevo capito che c'era la possibilità di fare questo grande risultato, per cui io chiudo ripartendo dall'inizio, ripeto il mio merito è parziale ma ho avuto con me meravigliose donne e uomini che hanno partecipato e che rimarranno con me, anche questo dovrà cambiare. A volte le campagne elettorali sono fatte di tanta partecipazione e poi tanti scompaiono, ecco non sarò così. Permettetemi una piccola piccola cosa, voglio dedicare alla mia mamma quello che spero sia un grande successo per me e per Milano e qui con me. Grazie. Grazie. Grazie.